Firmata la convenzione tra l'Asri di Teramo e l'Università dell'Aquila per l'unità di lungo degenza all'ospedale di Giulianova. Il reparto vanterà di 17 posti letto e grazie alla collaborazione con l'Ateneo ci saranno periodici corsi di aggiornamento e formazione per il personale. Un importante servizio sanitario ospedaliero riservato ai pazienti che, conclusa la fase acuta del ricovero, necessitano di un prolungamento del regime ospedaliero in quanto le condizioni cliniche generali postumi della patologia di base non consentono l'immediato rientro in ambito domiciliare. L'ospedale di Giulianova è stato sempre attenzionato, certo, un periodo era un po' invece noi abbiamo voluto che Giulianova ma è un ospedale e quindi come Adria e San D'Omero, essendo degli ospedali che fanno parte dell'ospedaliera gli vanno dato il giusto risalto e quindi bisogna creare delle strutture flessibili in maniera tale che, flessibili anche interscambiabili con l'AB, in maniera tale che si dia un'assistenza sanitaria qualificata. Oggi è il caso della lungodeggenza che, mentre prima c'era il dottor De Berardis che gestiva il reparto di medicina e quindi non emergeva questa diversificazione, oggi la lungodeggenza assume una connotazione ben specifica con un direttore universitario e quindi certamente andrà a aumentare la qualità e l'assistenza per questo tipo di paziente e soprattutto anche per l'ospedale Giuliese. Massimo De Martinis, professore associato del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubbliche, Scienze della Vita e dell'Ambiente è stato nominato direttore della UOC lungodegenza dell'ospedale di Giulianova. L'attivazione di un'unità complessa di lungodegenza è un passaggio fondamentale perché rappresenta un po' questo raccordo, credo, tra la medicina ospedaliere e la medicina del territorio. L'azienda di Teramo sta investendo tantissimo per migliorare l'offerta sul territorio e quindi questo collegamento intermedio che forse manca da tanto tempo è un passaggio fondamentale, penso.